Per l'Aquila l'incrocio con i laziali del Monte Rotondo potrebbe far pensare a una gara meno complicata del previsto, ma in questo girone ogni sorpresa è dietro l'angolo. Cappellacci mette subito dentro Mandrelli a sinistra al posto dello squalificato Bellardinelli e Del Pinto si accomoda in panca a causa rischio cartellino che potrebbe costare il big match con la capolista Campobasso. Per il resto stessi uomini del derby col Chieti. Polverini dall'altra parte deve fare a meno di manca squalificato mettendosi a specchio con Milani per rotta e squersanti lì davanti nel tridente. Al dodicesimo arriva la prima emozione del match quando Milani da sinistra imbecca malvestuto in area piccola. Il 7 in casacca rossa sovrasta gli avversari ma il suo colpo di testa finisce alto con Michelin in controllo con lo sguardo. La gara scivola via senza grosse emozioni con i laziali bravi a chiudere gli spiragli e i tentativi aquilani che spesso risultano lenti e prevedibili. Laziali che giocano con coraggio e piglio interessante al dispetto di una posizione di classifica che invece dovrebbe generare poco entusiasmo. Al 34esimo l'Aquila ci prova con la tecnica e con gli scambi veloci sulla tre quarti ma Costa Ferreira non trova forza e precisione col Mancino dopo l'ottimo break di Uali e il servizio di Banegas. Passano 5 minuti e i rosso-blu ci provano con lo stesso light motive. Stavolta il pallone arriva sui piedi di Angiulli che col Mancino crea più di un brivido ai laziali. Mani nei capelli invece per il rientrante centrocampista. L'Aquila cerca di alzare il baricentro col Monte Rotondo che sfrutta però bene gli spazi soprattutto sull'out di sinistra. Stavolta è Milani a scappare a Giulio Dori e sul velenoso tiro cross Michelin è costretto alla smanacciata. Sull'altro fronte è bravo anche Casagrande quando da punizione di Banegas l'incursione di Origlio non fa perdere la concentrazione al numero uno che abbraccia la palla in sicurezza. Da qui al 48esimo nulla da segnalare con i 22 protagonisti invitati negli spogliatoi per il riposo. Ad inizio ripresa stessi effettivi per entrambe le compagini con l'Aquila che parte col piglio giusto quando attorno al terzo minuto ci prova col solito fraseggio che termina sul destro di Origlio che di prima intenzione non trova lo specchio della porta a difesa da Casagrande. Passano 6 minuti e l'Aquila sui piedi, anzi sulla testa di Costa Ferreira il pallone del vantaggio. Giulio Dori cambia tutte le marce del suo motore e col destro trova il portoghese sul primo palo ma il numero 7 sfiora l'incrocio disperandosi. Portoghese che ci prova anche un minuto più tardi ma il suo tiro dalla distanza non trova lo specchio della porta laziale. L'Aquila insiste e al tredicesimo trova l'episodio per cambiare volto al match. Sul controllo in area di Marcheggiani il centroavanti viene toccato sulla caviglia da Calisto. De Stefanis di Udine non ha dubbi malgrado le proteste. Banegas si prende il pallone poi mira l'angolino andandosi a prendere l'undicesima marcatura in campionato. Monte Rotondo 0, l'Aquila 1. Il Monte Rotondo non si abbatte e quasi per caso con una clamorosa ripartenza rischia di prendersi il pari quando Giulio Dori in spaccata sfiora l'assurdo autogol. Per sua fortuna Michelin è attento andando a evitare la frittata in spaccata. Cappellacci al venticinquesimo opera il primo cambio. Orsi prende il posto di Uali andando a occupare l'out di sinistra in attacco con Costa Ferreira in linea mediana. Il Monte Rotondo non demorde e dopo tre corner consecutivi chiede il calcio di rigore per un tocco di mano in area. De Stefanis decide di proseguire scatenando le polemiche laziali. Laziali che dopo due minuti trovano comunque il pari col neoentrato Cardillo che su traversone da sinistra sovrasta Mandrelli andando a centrare il gol dell'1-1. I restanti minuti non sortiscono effetti positivi con i rosso-blu che a fine gara quasi a capochino vanno al cospetto dei tifosi rosso-blu a corsi a Monte Rotondo. Dall'altra parte complimenti a Polverini per aver interpretato una gara fatta di coraggio e compattezza.